Avete già sentito, l'orto botanico dell'Università di Padova è stato fondato nel 1545 per motivazioni scientifiche e didattiche, quindi per studiare soprattutto le piante e il loro utilizzo medicinale. Come è già stato detto, il più antico orto botanico universitario, se vedete il confronto con queste due immagini, vedete anche come la struttura si è rimasta assolutamente conservata nei secoli. Proprio anche grazie a questo fatto, appunto è stato riconosciuto dall'UNESCO ormai 25 anni fa, quest'anno celebremo questo anniversario, appunto il riconoscimento del valore culturale, del contributo scientifico e nella comprensione della relazione fra natura e uomo che fa parte del nostro patrimonio culturale. Questo è forse il fil rouge che cerchiamo di utilizzare anche in tutte le cose che volevo raccontarvi oggi molto rapidamente, volevo fare un escursus delle nostre attività e di quelle che sono in cantiere e che diciamo secondo me si possono riassumere appunto in questa motivazione appunto nel cercare di studiare, di comprendere meglio ma poi anche di comunicare le relazioni fra la natura e l'uomo e quanto la natura sia importante per la nostra sopravvivenza ma anche per il nostro benessere. Quindi la parte antica appunto che è quella originaria che ha mantenuto sia il luogo che il disegno che ha una serie di collezioni botaniche che hanno diverse classificazioni, diversi scopi quindi dalle piante medicinali a delle piante di ambiente montano a delle piante invece che sono state introdotte per la prima volta dall'orto botanico in Italia. Quindi è un racconto della storia botanica. Un grande passaggio per l'orto botanico è stato l'inaugurazione del Giardino della Biodiversità nel 2014 in cui ci sono cinque serie che riproducono diversi ambienti e all'interno di queste serie ci sono due percorsi espositivi che hanno due temi che appunto si ricollegano bene alla motivazione dell'UNESCO che è appunto le piante e l'ambiente, cioè come le piante interagiscono in ambienti diversi si può toccare con mano come una pianta di un ambiente sia diversa dall'altro ma anche c'è un percorso che racconta come l'uomo, la vita dell'uomo sia indissolubilmente legata all'utilizzo che l'uomo fa delle piante per vari scopi, in primis il cibo ma anche molti altri. Assieme a questo sviluppo è anche cresciuta tantissima l'attività di visite quindi di visite guidate che pre-pandemia hanno raggiunto il 1600 ma anche soprattutto di eventi e qui si ricollega il tema di aprirsi alla città quindi l'orto botanico e l'aditorium che non ho messo un'immagine ma è una parte diciamo del rinnovamento attraverso che è avvenuto insieme al Giardino della Biodiversità è diventato quella che io chiamo la porta dell'università verso la città nel senso che è diventato il luogo con cui l'università comunica con il resto della città attraverso eventi di vario genere e come anche si apre alla relazione con altre realtà attraverso una serie di convegni e meeting che sono veramente ormai una realtà quotidiana. A questa attività assieme alla struttura è stata aumentata molto anche l'investimento in termini di persone su cui arriverà fra un momento che organizzano e seguono tutti questi eventi l'evento principale è questo festival che si chiama Risvegli che viene fatto ogni primavera l'ultima edizione si è conclusa qualche giorno fa e appunto fra l'altro ha anche raggiunto il record di presenza con 15.000 a questo si è aggiunto anche una forte attività didattica quindi ci sono molti laboratori didattici che coinvolgono sia corsi universitari come è la nostra missione originaria ma anche molto anche le scuole di ogni ordine questo aumento dell'attività quindi dal punto di vista della struttura che è una struttura molto attrattiva ma anche come ho detto dal punto di vista dell'investimento di attrazione vedete ha avuto un impatto forte nel numero di visitatori che quindi dai numeri pre giardino della biodiversità è più che triplicato fino alla pre-pandemia quest'anno appunto ovviamente i dati sono solo di 4 mesi di apportura però diciamo siamo ottimisti che si riesca a ritornare diciamo ai livelli più o meno pre-pandemici stiamo vedendo un grande entusiasmo nel ritornare due parole sull'organizzazione noi facciamo parte dell'università quindi siamo tutti l'orto di proprietà dell'università che lo mantiene e lo gestisce ci sono due enti diciamo strutture principali uno è il cosiddetto centro di Ateneo che è quello di cui io sono responsabile che è diciamo anche la struttura più storica che ha seguito l'orto botanico ci occupiamo appunto di mantenerlo e gestirlo di tutta l'attività didattica universitaria e poi c'è anche una parte importante sulla ricerca e poi anche la divulgazione della scientifica a questo negli ultimi anni appunto si è affiancato un altro ufficio che si occupa invece di tutte quelle attività di cui appunto che sono un po' più lontane da quella che è la missione struttamente universitaria ma che sono invece importanti per tutto l'impatto dell'orto botanico verso la cittadinanza quindi c'è questo ufficio che si chiama Eventi Permanenti che gestisce appunto i servizi del pubblico le visite guidate, i laboratori didattici per le scuole e tutti questi eventi di promozione varia insomma che ospitiamo due parole sulle linee di sviluppo giusto perché anche queste secondo me sono diciamo per sottolineare quelle che sono diciamo la nostra missione che ci distingue forse un pochino dagli altri relatori anche io sono un ricercatore in biologia vegetale quindi sono veramente un profilo molto diverso da quello degli altri relatori di oggi quindi un primo sviluppo importante sarà l'apertura del museo botanico di cui vi parlerai in un minuto c'è poi un piano per fare una serie di interventi a favore della sostenibilità quindi migliorare le nostre serie di coltivazioni diventare più efficienti nell'utilizzare l'acqua utilizzare solo l'acqua che serve non sprecarla usare gli scarti vegetali riciclarli al meglio riuscire a usare le piante anche per pulire l'acqua non solo per crescerle e la cosa importante è che vogliamo oltre a implementare queste soluzioni perché sono importanti ma vogliamo anche comunicarle cioè fare in modo che noi cerchiamo di fare degli interventi che siano innovativi che siano il meglio che si può pensare di implementare attualmente però vogliamo anche mostrarlo a chi ci viene a visitarlo perché fa parte appunto del comunicare come anche noi ci relazioniamo alla natura come la dobbiamo imparare a rispettare sicuramente meglio di quanto già lo facciamo per l'attività di ricerca appunto anche questa appunto va nel tema generale dello studio della conservazione della biodiversità delle piante ma anche qui con un'attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico che sta alla base del nostro riconoscimento diciamo da parte dell'UNESCO quindi ad esempio abbiamo una serie di collezioni storiche di erbari che anche qui hanno bisogno diciamo di uno studio scientifico a cui però vogliamo affiancare anche qui la comunicazione e diciamo raccontare a chi ci viene a visitare questo tipo di materiale su questo pensuale la tornerà e anche qui vogliamo potenziare la parte appunto di didattica divulgazione per i visitatori con una serie di interventi il potenziamento dell'app con nuovi materiali l'accessibilità nuovi airspeed per rinnovare diciamo la visita quindi per far tornare le persone anche più volte e altre manifestazioni quindi lascerei a loro la parola a Elena grazie grazie prefetto dell'ortobotanico un termine prefetto sottolinea anche l'importanza che l'università storicamente attribuisce a questo sito e credo che la professoressa Canadelli sia proprio la persona giusta per far partire il tema del museo dell'ortobotanico visto come dire le sue esperienze le sue collaborazioni di Padova ma anche con numerosi musei diciamo quello della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e con il museo e con le musee di Trenco grazie la ringrazio si aggiungo solo questo elemento nuovo che si aggiungerà in questo sito dell'ortobotanico che è appunto il museo botanico che vuole valorizzare le nostre collezioni dell'università che sono collezioni principalmente legate ad erbari e anche a collezioni didattiche storiche di semi modelli di funghi tavole parietali cioè tutto materiale che veniva utilizzato anche nella didattica della botanica nel corso dell'ottocento e del novecento e diciamo l'edificio che ospiterà al pian terreno il nuovo museo che quindi valorizza parte delle collezioni storiche che sono comunque poi conservate al piano superiore nella loro interezza è questo che è la palazzina dove abitava il prefetto un edificio settecentesco e dove era ospitato tra otto e novecento l'istituto di botanica appunto con i laboratori con le aule didattiche e che nel tempo è una struttura che è cambiata e voglio sottolineare un altro aspetto importante di questo edificio che è quello legato non tanto a beni museali ma a beni archivistico-librali nel senso che abbiamo la biblioteca dell'orto e al primo piano verrà anche trasferita la biblioteca pinali antica di anatomia e medicina con dei fondi molto importanti quindi e poi al piano ancora superiore appunto il prefetto e quindi questo per intendere che questo progetto del museo botanico va al di là ecco semplicemente della valorizzazione di alcune collezioni ma è la nascita almeno per come la stiamo anche intendendo noi con collaborazione tra diverse anime che abitano questo sito cioè i botanici chi si occupa di patrimonio storico in senso lato e chi fa comunicazione ecco è proprio questo quindi un luogo dove la storia la natura la botanica come scienza vogliono dialogare sia con il pubblico nel nuovo percorso che adesso vi mostrerò velocemente sia anche come livello di conservazione per quello che riguarda l'erbario che quindi è uno strumento sia botanico ma anche storico perché nei fogli di erbario troviamo informazioni storiche sulla raccolta il raccoglitore il luogo che quindi meritano anche uno studio storico in particolare storia della scienza ma soprattutto anche botanico per capire com'è cambiata anche la biodiversità i luoghi di raccolta e quindi appunto sopra continueremo facendo anche attività didattica quindi si implementerà questa parte e poi con un polo appunto di biblioteca e archivio perché abbiamo anche l'archivio dell'orto botanico che va grossomodo dalla fine del 700 agli anni 20 del 900 che è stato finalmente inventariato e che sarà disponibile a breve su Faidra che è la piattaforma digitale dell'università di Padova in open access accessibile a tutto il mondo liberamente quindi insomma stiamo lavorando in sinergia e quindi l'idea è stata adesso mi mostro insomma appunto questo edificio anche il tema dell'ingresso per esempio che è stato scelto quindi di privilegiare un ingresso più dal lato orto quindi è proprio una nuova offerta di un sito più ampio oltre all'orto antico e al giardino della biodiversità che è un po' l'anello mancante l'anello che mancava appunto che valorizza queste collezioni otto-novecentesche e che parla anche di storia di questo luogo insomma la storia dell'orto botanico e quindi vuole aggiungere questa parte e appunto l'ingresso principale sarà proprio dal lato orto cioè quindi lavoriamo proprio a livello di sito in maniera complessiva ovviamente c'è anche un altro ingresso per esempio non so se quando l'orto è chiuso o per eventi serali quindi ovviamente però è stata fatta una scelta proprio di pensare e quindi anche la programmazione culturale sia come università sia con la città di un certo tipo insomma integrata e qui vedete velocemente un po' il percorso appunto si entra c'è una sala introduttiva poi c'è una valorizzazione in questo lungo corridorio proprio dei fogli d'erbario con delle valorizzazioni di storie legate ai recoglitori oppure legate alle piante a tematiche legate alle piante o fondi che costituiscono l'erbario quindi legati a prefetti del passato importanti appunto questi sono gli spazi dell'erbario e il piano superiore che appunto devono essere anche condizionati in un certo modo quindi le masse non possono entrare qui però ecco sotto si spiega perché è importante questo strumento perché è importante l'erbario e le storie che ci sono che non sono solo storie di piante ma anche delle persone che le hanno raccolte o degli usi nelle diverse culture e qui appunto vedete un po' di che materiale si tratta e qui appunto valorizzeremo figure come quella del prefetto Roberto De Visiani quindi metà ottocento Silvia Zenari metà novecento lei non era prefetto però per dare anche una sensibilizzazione sul ruolo per esempio delle donne in scienza lei ha contribuito alla formazione novecentesca dell'erbario ed è stata una figura molto importante oppure ancora le alghe di Achille Forti che diciamo è stato un algologo della fine dell'ottocento oppure il prefetto insomma micologo anche Saccardo e siamo alla fine dell'ottocento quindi appunto anche alcune valorizzazioni proprio di fondi di erbario legati a dei nomi importanti oppure anche ad erbari che non sono scientifici strettamente ma che sono importanti per esempio abbiamo questo erbario appunto di giovanile di Filippo De Pisis quindi anche il rapporto con l'arte insisteremo molto su questo appunto storia natura cultura piante e scienza per dare anche un'immagine di un certo tipo e qui vedete insomma dei rendering giusto per farvi un'idea insomma di questo lungo corridoio poi ci sarà una parte importante che è regata a questa spezzeria di prima ottocento che è stata donata da Giuseppe Maggioni qualche anno fa e che ci consente di parlare degli albori dell'orto botanico quindi facciamo un po' un salto all'indietro quando legato alla farmacopea allo studio delle piante alla cura diciamo così dell'uomo attraverso le piante quindi parliamo delle origini in un ambiente dedicato anche qui vedete dei rendering giusto per farvi un'idea e poi c'è una parte invece dedicata appunto al laboratorio del botanico dove invitiamo attraverso le collezioni didattiche di 8-900 quindi con modelli di funghi semi al riconoscimento delle piante ancora diciamo torniamo andiamo un po' più avanti quando la botanica è una scienza autonoma e quindi è basata sul riconoscimento delle morfologie insomma valorizzando queste collezioni che in parte esporremo quindi collezioni di semi centurie oppure anche tavole parietali provette insomma per fare entrare un po' nel laboratorio del botanico anche il visitatore chiedendoli di riconoscere di riflettere su alcune cose un aspetto importante di tutto il percorso appunto questa linea di valorizzazione delle singole collezioni non so una collezione dell'800 con una determinata tecnica che entra nel museo nel 1830 e poi invece dei contenuti più generali quindi ci muoveremo su questi due livelli poi appunto ci sarà un filmato nel teatro botanico con una valorizzazione anche di queste di Atomeco poi come vi dicevo al piano superiore oltre alla biblioteca dell'orto che c'è sempre stata si aggiungerà la pinalia antica con anche una valorizzazione di diverso tipo perché appunto se nel museo botanico si entrerà con un biglietto unico del sito orto botanico l'utente diciamo medio che va in biblioteca non è un utente pagante ovviamente e può essere di consultazione specialistica ma anche offrendo qualcosa di più per esempio con delle mostre bibliografiche che diciamo magari saranno gratuite con piccoli gruppi una gestione diversa ma che contribuirà noi speriamo insomma rilanciare questo patrimonio fondamentale dell'università di Padova in una maniera diversa rispetto a quanto si fa giù al pian terreno ma comunque fondamentale che non è mai stata fatta recuperando sempre questo elemento medico e botanico quindi questo anche qui è un rendering per farvi capire questo corridoio che prima era adibito ad altre mansioni sarà di valorizzazione di questi volumi antichi e quindi quello che diciamo porterà questo museo botanico non è tanto solo un allestimento del pian terreno ma nostro modo di vedere è proprio anche un'aggiunta una progettazione sia interna all'università tra vari componenti di ricerca quindi dall'ambito storico architettonico di conservazione del patrimonio e botanico e una nuova collaborazione quindi ma anche un arricchimento poi dell'offerta al visitatore che arriva e in qualche modo capisce l'evoluzione diciamo dal 1545 a Giardino della Biodiversità dove in mezzo c'è questo periodo molto importante che appunto è il 700 l'800 e la prima parte del 900 attraverso le collezioni ecco grazie 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 molte anche per questo viaggio virtuale che ci ha sicurato